Professor Cicero, quando è che l'alimentazione non basta più a gestire l'ipercolesterolemia? Diciamo che l'alimentazione è un punto base che dovremmo seguire per cercare di ridurre il rischio cardiovascolare globale. L'impatto dell'alimentazione media sulla colesterolemia è usualmente di un 5-10% massimo per chi mangia particolarmente male. Per cui questo lascia molto margine al cercare qualunque strategia che ci possa aiutare a ottimizzare i valori di colesterolemia indipendentemente dal mantenimento di un buono status di salute alimentare. Quando è che bisogna utilizzare un nutraceutico? Quando è che è consigliato? Perché invece un nutraceutico che si basa poi su molecole contenute negli alimenti può avere un impatto? Diciamo che la differenza importante che esiste fra il nutraceutico e le diete in senso lato è che la dieta in senso lato per definizione non può contenere soltanto sostanze che vanno contro l'assorbimento, contro la produzione di colesterolo e di trigliceridi, quindi un effetto globale. Il nutraceutico è una molecola di origine naturale, altamente concentrata, che svolge di solito un meccanismo di azione specifico, per cui va a lavorare selettivamente o sull'inibizione dell'assorbimento del colesterolo a livello intestinale, o sull'inibizione della produzione di colesterolo a livello epatico o facilitando l'eliminazione del colesterolo con la bile, che è il modo fisiologico con cui noi eliminiamo colesterolo dal nostro organismo. Quindi è un problema fondamentalmente di concentrazione e di meccanismo di azione. Noi non potremmo mai assumere con la dieta una quantità di un nutraceutico attivo sulla nostra salute a livelli così alti da poter determinare quell'effetto che invece osserviamo con formulazioni come integratori, compresse, capsule, eccetera. Per quanto tempo può essere assunto o deve essere assunto un nutraceutico che aiuta appunto a tenerlo a bada? I livelli di colesterolo nel sangue sono fondamentalmente determinati da un punto di vista genetico, per cui chi ha una predisposizione ad avere il colesterolo a livelli subottimali, tendenzialmente lo avrà per tutta la vita. Da questo punto di vista l'impiego di sostanze nutraceutiche per la riduzione della colesterolemia di conseguenza e logicamente dovrà essere più continuativo possibile. Questo più che altro al fine di evitare al passaggio, allo step successivo, quando mai dovesse essere utile, di dover farmacologizzare questo livello di colesterolemia subottimale. Qual è il momento migliore per assumere questo tipo di integratori? Allora, usualmente il momento migliore è la sera. La sera perché ci si avvicina di più al momento in cui fisiologicamente il nostro corpo produce più colesterolo. E usualmente il consiglio è quello di utilizzarlo nel post-cena, se vogliamo, per sfruttare anche la componente cibo per migliorare l'assorbimento di questi integratori.